Il dolce stile nuovo che tanto significa nella nostra didattica, nella nostra cultura, nella nostra tradizione. Ma da dove viene il dolce stile nuovo? È un frammento del verso 57 del canto ventiquattresimo del Purgatorio. Si tratta dei canti dove compaiono i poeti d'amore, non solo Bonaggiunta, Arbicciani e Dallucca che pronuncia le fatidiche parole, ma anche Arnaud Danielli, il grande trovatore provenzale, anche Guido Guinizelli nel 26esimo. Ora, qual è il problema? Io sono un filologo, quindi faccio particolarmente caso alle parole. Dolce stile nuovo ha forse esercitato questo enorme fascino sulla sensibilità di tutti, anche per questo doppio aggettivo, dolce stile nuovo, che in realtà nella lingua di Dante è molto raro. In tempi recenti la filologia ha inoltre accertato che nei codici più autorevoli, in mezzo a questo sintagma, c'è un articolo, il dolce stile, il nuovo. Il nuovo, poi, è un aggettivo sostantivato che davvero nella commedia non c'è. Abbiamo ormai strumenti informatici che ci consentono di fare questi accertamenti in pochissimo tempo. E allora, come si risolve questo che già si profila come un problema? Nell'ultima edizione Federico Sanguinetti, nel 2001, ha risolto, interpretando il verso come esclamativo e facendo quindi dire a Buonaggiunta che in qualche modo saluta la novità e la rivoluzionalità dei nuovi poeti di cui Dante era il capo scuola, dice, ora vedo io, dissegli, il nodo che ha trattenuto i poeti del vecchio stile e che novità, il nuovo chiodo. Il problema è che il chiodo, che io odo, viene usato altre quattro volte da Dante in punta di verso ed è sempre trisillabo. Con il nuovo articolo, quindi, il verso diventa ipermetro, il verso diventa di dodici sillabe. E allora qual è la soluzione unica che si profila? Quella di leggere il nuovo chiodo, il chiodo, il clavum, che molti commentatori fin dal Trecento hanno visto in questo verso, anche il figlio di Dante, Pietro. Ma che ci fa un chiodo in una discussione di alto profilo fra poeti d'amore? Beh, intanto è un ottimo parallelo al dolce stile, perché non dobbiamo dimenticare che lo stilo, prima ancora di essere metafora, ancora oggi diffusissima, era lo stilo con cui si incidevano le tavolette di cera o altri supporti e quindi è una punta accuminata, come il chiodo, sostanzialmente. E perché è nuovo lo stilo, il chiodo? Il chiodo è nuovo perché si contrapone al vecchio, è il nuovo chiodo che scaccia il vecchio chiodo, secondo un adagio ancora oggi diffusissimo che viene addirittura dalla tradizione greca, ma che poi viene canonizzato da Cicerone nelle Tusculane Disputationes in declinazione specificamente erotica. È il nuovo amore che è l'unico modo in cui un sentimento radicato nell'animo può essere finalmente sollevato. così come il chiodo, appunto, scaccia il chiodo già confitto nell'asse. In una lettera di San Girolamo questo avvicendamento di amori sempre nella sfera erotica viene specificato in un avvento dell'amore sacro, la profetessa Esther, che scaccia l'amore profano, quello della regina Vasti e infatti il protagonista è Assuero, appunto, cioè Esther, primo. Questa tradizione viene sicuramente recepita da Petrarca, fra gli altri, c'è in Ariosto, in molti casi, e viene particolarmente, come dire, declinata per, appunto, sancire il superamento dell'amore sacro nei confronti del sentimento puramente fisico e profano. Questo Petrarca lo dice chiaramente nel Triunfus Copidini IV e riprende esattamente la serie rimica nuovo modo chiodo che viene, appunto, a leggersi se accettiamo questo clavum, appunto, nel passo che si è detto. Questo genere di dato ci fa capire una cosa sicura. Petrarca, come anche Boccaccio, come i codici del gruppo Vaticano su cui leggevano sicuramente i nostri due grandi poeti, leggevano chiodo. Esistono codici addirittura in cui i copisti hanno specificato nel margine clavum perché uno non equivocasse nella lettura di chiodo visto che non si dividevano le parole in antico. Quindi, sicuramente, come dire, questo nuovo chiodo che scaccia il vecchio sentimento si attaglia perfettamente a una discussione tra poeti d'amore il gruppo vecchio dei quali persegue una poesia estetica raffinata anche di forte tecnicismo che però aderisce a una ottica cortese di vecchio tipo. Il gruppo dei nuovi che invece propone una, diciamo, retorica di amore davvero ispirato divinamente. Mi fermo qua. Ho già scritto tre articoli sull'argomento non mi pare il caso di insistere ma sicuramente anche se fosse questa la soluzione dell'enigma chi lo sa se davvero cominceremmo a leggere chiodo visto che ancora oggi molti ritengono questa una variante impazzita una assoluta scoria della tradizione e sicuramente questo problema ci fa capire come anche che una piccola parola anche un breve sintagma possano significare tanto per Dante per la commedia per la nostra tradizione scolastica culturale identitaria per quanto riguarda la letteratura italiana. Grazie e buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.